Buongiorno a tutte e tutti e bentornati nella congrega del terrore ma soprattutto bentornati in una nuova horror story. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e di seguirmi anche su Instagram per non perdervi le novità e soprattutto per rimanere sempre in contatto. Ora che ci siamo liberati, insomma, di queste solite prime informazioni e raccomandazioni, direi che possiamo buttarci a capofitto in questa nuova horror story. Halloween è passato ormai da un po' ma ogni momento per noi è buono per parlare di storie spaventose e storie di fantasmi perché è proprio di questo di cui vi voglio parlare oggi e cioè la vera storia della Mary Celeste, la nave diventata famosa per essere una nave fantasma. Stiamo parlando di un brigantino che Wikipedia mi insegna essere un veliero di piccole dimensioni e con due alberi, comunque di origini canadesi. Partito dalla Nuova Scozia nel 1861 con il primo nome di Amazon, infatti diventerà Mary Celeste più avanti nel 1869, ma adesso ci arriviamo. È una nave di 31 metri e 282 tonnellate, nonché il primo progetto di così grandi dimensioni dell'isola di Spencer, tanto che gli abitanti erano parecchi orgogliosi di questa costruzione di questa nuova nave. Ma è inutile dire che questa nave era già nata sfigata perché poco prima del suo viaggio inaugurale, proprio nel 1861, il capitano tragicamente muore. Dopodiché, vabbè, si trova un sostituto, parte e nel canale della manica si schianta contro un'altra nave. Cioè, questi sono dei chiari segni, è difficile comunque non notarli, però vabbè, negli anni successivi diciamo che gli va abbastanza bene, non succedono altre tragedie. Almeno fino al 1869, quando va in secca nella baia di Gleis durante una tempesta. A quel punto, questa nave non ne hanno più, perciò viene salvata e viene venduta ad una compagnia statunitense che sempre nel 1869 la ribattezza Mary Celeste. Arriviamo subito al fattaccio perché il 4 dicembre del 1872 la nave Dei Grazia è lì che se la sta navigando per i fattacci suoi quando all'improvviso all'orizzonte vede una nave alla deriva tra le coste portoghese e le azzorre con le vele spiegate che punta dritta verso lo stretto di Gibilterra. Ma non ci sono segni di equipaggio a bordo, perciò vengono mandati dei marinai in avanscoperta per scoprire che cosa sia successo e su questa nave non troveranno nessuno. Tutto sommato, inizialmente la nave sembrava anche messa abbastanza bene, c'erano le vele un po' strappate ma alla fine stava navigando alla deriva vele spiegate, c'era appena stata una tempesta. In stiva hanno trovato un metro d'acqua e tra l'altro solo una pompa in funzione e poi però indagando un po' più a fondo hanno trovato anche la bussola rotta, mancavano il sestante e il cronometro marinaio, quindi insomma qualcosa un po' puzzava. Ma il carico sembrava tutto intatto perché la Mary Celeste portava ben 1701 barili di alcol. Ma non è tutto perché oltre tutti questi oggetti mancava anche l'unica cialuppa di salvataggio e non erano stati trovati dei segni che fosse stata strappata dalla tempesta che si era scatenata poco tempo prima. Comunque la Dei Grazia trascina insomma la nave fino al porto di Genova dove fanno un'altra scoperta. Allora la nave era partita dal porto di New York il 7 novembre del 1872 con a bordo il capitano, la moglie, la figlia di due anni e sette marinai con appunto 1701 barili di alcol in direzione proprio del porto di Genova. Ma come vi dicevo una volta indagato un po' più a fondo sul carico della nave si scopre che questi barili erano tutti vuoti ma che all'interno comunque c'erano ancora le scorte di acqua e cibo per altri sei mesi. Ma mancavano anche delle carte di bordo e inoltre gli ultimi appunti ritrovati risalivano al 25 novembre. Inutile dire che purtroppo nessuna delle persone che componevano l'equipaggio della Mary Celeste sono mai state trovate e non si è mai scoperto che cosa fosse successo. L'anno dopo nel 1873 nell'entroterra spagnolo sono state trovate due scialuppe, una con una bandiera statunitense e un'altra con cinque cadaveri che però non sono mai stati identificati. A questo punto le teorie proprio sono impazzite, ce ne sono state tantissime. Dall'ammutinamento proprio per rubare questo carico d'alcol, alla tromba d'aria che in qualche modo potrebbe aver fatto pensare all'equipaggio che la nave stesse per affondare e quindi li avesse comportati insomma ad abbandonare la nave disperdendosi così nell'oceano. All'avvelenamento collettivo di un fungo che provoca allucinazioni psicosi e che quindi possa in qualche modo aver spinto i marinai a lanciarsi in mare, ma c'è da dire che poi i marinai della Dei Grazia non sono stati colpiti da questo fungo e quindi anche questa ipotesi è andata a crollare. Quella più gettonata è l'ipotesi avanzata da uno storico che è Conrad Byers, è stato il curatore del museo Age of Sail e ha proposto che il comandante non avesse mai viaggiato con un carico così pericoloso, perché comunque ricordiamoci che l'alcol è altamente infiammabile anche a basse temperature e quindi avesse deciso di aprire gli sportelloni della stiva perché sono stati ritrovati aperti in modo da fare fuoriuscire i vapori dell'alcol impedendo così un'esplosione. A questo proposito, proprio su questa ipotesi, hanno lavorato anche successivamente, anche in tempi abbastanza recenti. Difatti nel 2005 gli storici dell'Università di Londra hanno ricreato un modellino di questa nave per simulare che cosa sarebbe successa con un'esplosione nella stiva. L'etanolo, come vi dicevo, si infiamma a temperature basse, quindi basta una minima scintilla per provocare un'esplosione e quindi far saltare anche lo sportellone della stiva, ma essendo queste delle temperature basse comunque non sono sufficienti per creare una fiammata, quindi per mandare a fuoco la nave ed è per questo che non sono state trovate sulla nave dei segni di bruciatura. Perciò potrebbe essere successo che un'esplosione improvvisa abbia in qualche modo spaventato giustamente i componenti dell'equipaggio e che quindi hanno deciso di calarsi in mare temporaneamente nella scialuppa lasciandosi comunque legati ad una cima in attesa che si concludesse l'emergenza. Una volta però trovatisi sulla scialuppa in mare si è scatenata questa tempesta che potrebbe averli trascinati via alla deriva senza cibo e senza acqua. In ultimo invece c'è stata un'altra teoria che prevede la presenza di un passeggero segreto sulla nave, perché 40 anni dopo il ritrovamento della Mary Celeste sono stati pubblicati dei carteggi di un certo Abel Frosdick, che potrebbe essere proprio questo passeggero segreto a bordo della nave e che sostiene che i componenti dell'equipaggio si siano tuffati i vestiti in mare e che siano stati sbranati dagli squali. Quello che lui racconta appunto in questi carteggi è che a quanto pare qualcuno avesse lanciato questa sfida, questa scommessa tipo scommettiamo che non ci possiamo tuffare tutti quanti e quindi il capitano ed altri marinai si sono buttati in mare, a quel punto hanno attirato un branco di squali che se li sono mangiati e non so se avete presente il film di Pirati dei Caraibi dove c'è la scena dove corrono tutti da una parte all'altra della nave per farla ruotare. Ecco, più o meno è successo quello, nel senso che tutti gli altri hanno detto ma che cosa sta succedendo? Sono corsi sul ponte a un lato della nave il quale ha ceduto e quindi ha fatto cadere tutti quanti in mare divorati dagli squali tranne il nostro Abel Frosdick che invece è cascato come rose sul Titanic sopra un tocco di legno e quindi alla deriva ha raggiunto le sponde dell'Africa settentrionale dove poi se ne è rimasto zitto zitto temendo che nessuno gli credesse. Ma diciamo che a parte essere proprio una bella storia non rimane nient'altro perché poi non sono state trovate prove di nulla neanche il ponte rotto che quanto pare avrebbe fatto cascare in mare tutti quanti e inoltre lui in questi carteggi parla di un equipaggio inglese quando l'equipaggio era statunitense e vuoi che uno che si è imbarcato proprio a New York non sapesse dove si trovava? Senza parlare che c'è stato un errore spropositato anche del tonnellaggio di questa nave quindi insomma era stato scritto proprio così a casaccio giusto per fare storia. In ogni caso tutt'oggi rimane un mistero tutt'oggi non si sa che cosa sia successo alla Mary Celeste e che fine abbia fatto l'equipaggio. Molto bene anche per oggi è tutto questa nuova storia di fantasmi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate qual è la vostra opinione e qual è la teoria che vi ispira di più e niente io come sempre se non l'avete già fatto vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella e di seguirmi anche su Instagram. Io vi ringrazio come sempre di essere stati qui con me fino alla fine di questo video e niente io vi saluto e ci vediamo alla prossima Horror Story.